Le nuove tratte aeree previste in partenza dall'aeroporto Costa d'Amalfi di Ponte Cagnano porteranno a variazioni sostanziali in ambito immobiliare, spingendo il turismo e il mercato delle seconde case. Secondo l'analisi degli esperti del settore, si registrerà una richiesta di acquisto in salita, con una gran parte della domanda di avvicinamento di investitori interessati alla zona da un punto di vista di business turistico, attività ricettive, parcheggi con servizio bus navetta per l'aeroporto, con il potenziamento dei collegamenti si registra un impatto positivo sul mercato immobiliare, è infatti risaputo come il valore degli immobili e la domanda aumentino in maniera esponenziale con la costruzione delle infrastrutture. Alcuni esempi provengono da diverse città italiane, tra le quali figurano Milano, Torino e Roma, come ha dichiarato ai nostri microfoni il broker manager Maurizio Basso dell'agenzia immobiliare Reliance di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. È risaputo che quando ci sta una costruzione delle infrastrutture, in questo caso dell'aeroporto, si ha sempre un impatto positivo sul mercato immobiliare. Per dare un senso a questa cosa vi posso portare degli esempi già venuti in passato nella nostra Italia. Milano, Torino e Roma sono tre grandi città dove hanno già subito costruzione di infrastrutture. Possiamo fare l'esempio di Milano con la costruzione della metropolitana Lilla. Nella zona c'è stato un forte impatto, anche se eravamo in un momento di mercato delicato, c'è stato un incremento addirittura che ha superato il 20% del valore dell'immobile. Un'altra zona che è stata molto Torino, con la costruzione del tratto Porta Nuova, anche lì abbiamo visto che il mercato immobiliare ha avuto un sollecito positivo. Per non parlare poi di Roma, con la costruzione della metropolitana B e C, in quella zona c'è stato anche lì un forte aumento. Con questo che cosa voglio dire e che cosa voglio sottolineare? Facendo delle stime in base alle richieste che ci arrivano nella nostra agenzia e parlando un po' con i nostri colleghi immobiliari della zona, c'è un forte impatto. Sia aziende che vogliono investire nella nostra zona e quindi insediarsi proprio nel nostro territorio e poi le persone che hanno degli immobili ci stanno già coinvolgendo facendo fare delle analisi e facendo delle analisi con delle statistiche a noi note abbiamo visto che sicuramente ci sarà un impatto sul mercato immobiliare che arriverà quasi al 10% del valore. Quindi ci sarà un ottimo investimento. Ma chi subirà questo, o meglio che avrà l'impatto positivo, saranno le strutture ricettive e alberghiere. Con l'avvio dell'aeroporto Costa da Amalfi di Salerno si prevede una stima del 10% dell'aumento del prezzo degli immobili. Inoltre con l'aumento del flusso di viaggiatori aumenterà la domanda per i pernottamenti ed un settore che sicuramente avrà beneficio è quello ricettivo. A sottolinearlo ai nostri microfoni è anche Gian Marco Leone, broker immobiliare dell'agenzia Relion di Salerno, che non trascura in un'analisi del mercato attuale anche un possibile effetto boomerang per le locazioni. Noi per quanto riguarda la nostra attività di consulenza immobiliare ci occupiamo tantissimo, da tanti anni, anche di consulenza per adibire appartamenti in strutture ricettive. L'aumento dei viaggiatori di quella zona ovviamente incrementerà anche l'aumento di richiesta di pernottamenti sul territorio. Ovviamente nell'analisi che noi facciamo, che abbiamo denominato screening, ma già da tanti anni che facciamo su Salerno, quello che sosteniamo è che un elemento importantissimo che bisognerà dare a questi appartamenti sarà sicuramente il comfort. Non ci dimentichiamo che la denominazione dell'aeroporto di Salerno ci suggerisce Costa d'Amalfi, quindi secondo me dovremmo dare a questi appartamenti e a viaggiatori di conseguenza già un assaggio di costiera amalfitana. L'opportunità per i proprietari di immobili ovviamente va tenuto conto che vanno messi a norma, vanno sistemati perché non si può semplicemente spalancare una porta per accogliere comunque dei turisti o dei clienti occasionali, ma allo stesso tempo secondo lei si corre il rischio anche che troppe case possano diventare B&B o affittacamere e quindi poi si potrebbero avere invece di riflesso difficoltà nella locazione? Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo, anzi io suggerisco di non fare l'errore che abbiamo fatto a Salerno dove si sono fatti B&B in ogni dove e danneggiando anche secondo me il mercato proprio immobiliare perché il mercato delle locazioni è molto contratto, giovani non trovano abitazione per quanto riguarda l'affitto e secondo me danneggia proprio il mercato anche recettivo perché l'incremento di troppe strutture poi ci obbliga ad abbassare il prezzo a notte, quindi poi vengono danneggiate le strutture e gli imprenditori che hanno fatto investimenti notevoli e che hanno adeguato secondo me bene gli appartamenti a discapito poi di questi appartamenti che escono così come suggerisce giustamente lei, spalancando semplicemente una porta. Un'opportunità per i proprietari di immobili perché in questo caso si può ricavare anche un vantaggio o una rendita più alta rispetto al passato ma ci sono opportunità anche per numerosi terreni della zona che potrebbero trasformarsi in parcheggio piuttosto che in aree rente. Assolutamente, anzi anche le aree rente e le aree di parcheggio sono molto importanti per far vivere all'ospite un'esperienza gradevole e soprattutto per raggiungere poi la costina amalfitana perché la viabilità è ancora ferma, sappiamo benissimo che la realizzazione della linea ferroviare della metropolitana è ancora ferma e quindi non combacerà con l'apertura dell'aeroporto.